Parliamo di funzione pubblica e parliamo di questo territorio, qual è la situazione? Beh, è una domanda da un milione di dollari, nel senso che dal punto di vista degli aspetti pandemici per quello che ci sta riguardando, penso che Crotone rappresenti comunque, se non un fiorell'occhiello, un punto di vantaggio rispetto a tutta la Calabria. Qui si è riusciti in qualche modo con grande sofferenza anche a fare i tracciamenti, si è riusciti in qualche modo a bloccare i focolai che erano presenti. Dal punto di vista degli aspetti sanitari, Crotone rispecchia un po' quello che sta accadendo in Calabria, c'è un'enorme confusione nella gestione e anche nell'offerta dei servizi. Noi speriamo che i nuovi commissari, ma non tanto i nuovi commissari, che ci siano un input diverso rispetto alla Calabria. Noi abbiamo problemi atavici, uno su tutti. Il debito in sanità in Calabria condiziona anche fermamente Crotone. Se noi non riusciamo a bloccare quel debito che è di circa 3 miliardi di euro, sarà difficile parlare di investimenti in sanità, sarà difficile programmare una sanità migliore. L'abbiamo vista con le assunzioni che dovevano avvenire, l'abbiamo vista con la nuova offerta dei servizi. Altro aspetto ancora più importante, e parlo per l'intero e aria vasta, se non si riesce a riequilibrare il rapporto tra pubblico e privato, sarà sempre un problema. Noi siamo dell'avviso che la sanità debba essere pubblica e che il privato debba essere semplicemente complementare o supplementare al servizio sanitario pubblico. Per quanto riguarda il commissariamento, abbiamo assistito a tutta una situazione veramente di impreparazione e di grande difficoltà per una Calabria che da questo punto di vista ha anche debiti economici di una certa portata. Ma si può pensare sempre a un commissario? Non si può superare questa fase? Il sindacato non può chiedere questo? Il sindacato veramente l'ha già chiesto in altre occasioni. Noi pensiamo che un commissariamento dovrebbe servire, e il miglior commissariamento, è quello che serve al superamento di se stesso. Perché superare se stessi può andare verso una gestione ordinaria. Noi non solo non assistiamo a questo, perché purtroppo abbiamo visto nel tempo che nessuno ha tentato di superare se stessi, hanno tentato di confermare loro stessi. Ma non solo abbiamo assistito a questo, perché negli anni, in questi ultimi dieci anni, sostanzialmente, il commissariamento non ha fatto altro che peggiorare le condizioni di salute dei nostri concittadini. Lo dico perché noi siamo da dieci anni, sostanzialmente, che siamo privi di un piano, parlo del periodo di commissario, privi di un piano sanitario, socio-sanitario, in questo caso, che dovrebbe essere appannaggio di tutte le regioni. Lo dico perché la sanità pubblica è stata depauperata della maggior parte dei servizi che riusciva ad offrire. Lo dico perché abbiamo assistito a una serie di accreditamenti, a una serie di cessioni di parte della sanità pubblica al privato, che per quanto ci riguarda sono sconsiderate.